Ciao amici di Luce Natura, ben ritrovati. Quest'oggi vi faccio vedere un grande insegnamento, un grande trucco e vi faccio vedere le prove di quelli che sono stati gli effetti della mia potatura sull'astone centrale se vi ricordate del giovane fico. L'anno scorso ho impalcato un giovane fico potando l'astone centrale molto basso molti di voi mi hanno scritto che probabilmente sarebbe morto, facci vedere i risultati. Allora, primo, eccolo qua il giovane fico. Adesso è inutile che siamo andati nel dettaglio, ha tirato fuori tante branche tanti rami che poi saranno le branche principali. La pianta non è morta ma adesso è impalcata molto bassa ma quello che voglio farvi vedere oggi è la differenza tra questo giovane fico che io ho comprato molto giovane aveva solamente un anno, un'astone centrale e quest'altro giovane fico. Ok, sono due cultivar diverse la parliamo di fiorone bianco, qua parliamo di fico nero, però la cosa interessante è che questo fico l'ho comprato e piantato e messo a dimora un anno prima ed era già impalcato. Come vedete questo e questo sono praticamente grandi uguali, anzi forse questo l'ha pure superato. Da questo esempio palese si evince che quando andiamo a prendere una pianta la pianta più è giovane e più cresce veloce, per assurdo è così. Se noi prendiamo una pianta molto grande, è vero che è già grande, però il problema che potremmo riscontrare è proprio per quanto riguarda il legno. Se il legno si è invecchiato noi non riusciremo a far crescere la nostra pianta come una pianta invece giovane e fresca. Questa sta crescendo molto velocemente, questa no. Sicuramente l'anno prossimo quella avrà superato questa perché il legno di questa pianta oramai si è invecchiato e si è indurito e quindi è come se l'albero rimane ingabbiato. Intrappolato nel tronco vecchio. Quindi mi raccomando quando prendete una pianta a prescindere dall'età anche un po' più grandicella però non deve avere il legno invecchiato perché altrimenti non vi crescerà mai. Questo è il grande trucco che vi do in questo video mi raccomando se il video vi è piaciuto se vi torna utile mettete un bel like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e noi ci rivedremo presto. Un saluto e un abbraccio di cuore.